Il quadrante del cash flow Il quadrante del flusso di cassa è un modello che mostra dove le persone acquisiscono il proprio reddito. Si può essere dipendenti, laboratori autonomi, grandi imprenditori o investitori. Il quadrante del flusso di cassa è un modello progettato da Robert Kiyosaki per mostrare i quattro modi in cui le persone acquisiscono la maggior parte del proprio reddito. I due quadranti a sinistra sono il quadrante E e il quadrante S, che fanno riferimento rispettivamente a lavoratori dipendenti o impiegati, E, employee, e a lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, S, self-employed, mentre nei quadranti di destra troviamo i grandi imprenditori, B, business owner, e gli investitori, I, investor. Un dipendente lavora per il sistema di qualcun altro, un piccolo imprenditore crea il suo sistema, un grande imprenditore crea, possiede e controlla un sistema, un investitore investe denaro nel sistema. Ognuno di noi, nella propria vita, può guadagnare da uno, due o tutti e quattro i quadranti. Consideriamo ad esempio un medico, potrebbe guadagnarsi da vivere come dipendente di un ospedale, di una compagnia di assicurazioni o lavorando nell'esercito con un classico lavoro di routine dalle 9 alle 17. Ma un medico può scegliere anche di essere un lavoratore autonomo e avviare uno studio privato, assumendo dipendenti e creandosi un giro di clienti. Anche in questo caso dovrà lavorare molto, ma avrà il controllo sul suo lavoro. Il medico potrebbe diventare anche un grande imprenditore, aprire una propria clinica e assumere altri medici. Probabilmente in questo caso dovrà affidare ad altri la gestione dell'organizzazione, e così sarebbe proprietario della clinica ma senza lavorarci lui stesso. Oppure, sempre lo stesso medico potrebbe continuare a lavorare come professionista nel suo settore ma al contempo avviare una nuova attività non correlata alla medicina. Inoltre, il suo reddito da medico probabilmente sarà investibile, quindi potrebbe anche diventare un investitore ad esempio in azioni o in immobili mentre continua a praticare la medicina, gestisce una clinica o gestisce la sua attività. È evidente quindi che ciascuno dei quattro quadranti richiede un diverso insieme di caratteristiche personali e di abilità, non esiste una scelta giusta o sbagliata. Ognuno può scegliere il posto che preferisce. Tuttavia, per diventare veramente ricco e raggiungere la libertà finanziaria devi arrivare nel quarto quadrante, quello degli investitori. Il lavoratore dipendente lavora per altri e ottiene un salario in cambio delle sue ore di lavoro. È avverso al rischio e cerca la sicurezza finanziaria tramite un contratto a lungo termine. Nel quadrante in alto a sinistra troviamo la categoria dei lavoratori dipendenti, coloro che lavorano per altri o per un'azienda e ottengono un salario in cambio di una certa quantità di ore di lavoro. I lavoratori dipendenti cercano la sicurezza finanziaria tramite un accordo contrattuale a lungo termine e cercano il successo finanziario attraverso la scalata aziendale. La maggior parte delle persone si trova nel quadrante degli impiegati perché è programmata a esserlo fin dall'infanzia. Fin da bambini ci viene detto di lavorare sodo, stare attenti al denaro e non rischiare dal punto di vista finanziario. Non ci viene insegnato ad avviare un'attività in proprio o a investire. Il vantaggio principale dell'essere un dipendente è una ridotta incertezza finanziaria, ma un lavoratore dipendente di successo di solito avrà poco tempo libero e il suo rendimento sarà generalmente superiore allo stipendio che guadagna. Infatti, a differenza di ciò che avviene negli altri quadranti, un lavoratore dipendente è pagato quasi sempre in base al tempo di lavoro e non alle sue reali prestazioni. Tuttavia, ciò non significa che una persona che occupa il primo quadrante sia necessariamente il povera. Molti dipendenti accumulano una notevole ricchezza, in particolare professionisti come medici e avvocati che lavorano in azienda. Ma diventare ricchi in questo quadrante è molto difficile, se misuriamo, come fa Kiyosaki, la ricchezza dal numero di giorni in cui puoi sopravvivere senza effettivamente lavorare e mantenere comunque il tuo attuale tenore di vita. Molte persone sono ricche temporaneamente e secondo gli standard sociali hanno una casa grande, una macchina nuova, bei vestiti. Ma invece di investire i propri soldi, la maggior parte delle persone appena avrà un aumento di stipendio acquisterà subito una casa più grande o un'auto nuova, col risultato di avere maggiori spese mensili e di dover lavorare ancora di più per mantenere lo stesso tenore di vita. Poiché non faranno investimenti a lungo termine che li porteranno a guadagnare di più in futuro, non sono davvero ricchi. Se vuoi davvero essere ricco, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di avere abbastanza soldi nel tuo conto corrente in modo da poter coprire le tue spese mensili finché sei in vita. Il lavoratore autonomo è il capo di se stesso, è altamente specializzato, in grado di controllare il sistema che si è creato da solo e guadagna in base a quanto lavoro riesce a fare. Nel quadrante in basso a sinistra troviamo i lavoratori autonomi, indipendenti e in grado di controllare il valore che offrono. Se un dipendente fa fronte alla paura cercando la sicurezza, un lavoratore autonomo lo fa prendendo il controllo e ottiene il successo finanziario diventando altamente specializzato in un campo competitivo. Questi lavoratori sono capi di se stessi, tendono a lavorare da soli all'interno di sistemi che sviluppano in modo autonomo come appaltatori o liberi professionisti con un proprio giro di clienti. Per queste persone, in realtà, il denaro è la ciliegina sulla torta, quello che vogliono davvero è l'indipendenza. Secondo molti esperti di finanza personale, questo è il quadrante più rischioso. Nove piccole imprese su dieci falliscono entro i primi cinque anni, soprattutto per inesperienza e capitale insufficiente. Nonostante i rischi, però, molti lavoratori autonomi hanno successo sul piano professionale e finanziario, ma per farlo devono dedicare più tempo al loro lavoro, poiché il loro reddito dipende direttamente da quanto lavoro possono fare. Il loro tempo è denaro. Il grande imprenditore ottiene il successo finanziario attraverso la creazione di un sistema di business, collaborativo redditizio e indipendente dalla sua presenza. Nel quadrante in alto a destra troviamo i grandi imprenditori. Una delle differenze più significative tra un piccolo e un grande business è la dipendenza dal proprietario. Nei grandi business l'imprenditore può lasciare l'azienda per un anno intero, tornare e trovare un'impresa ancora più florida, mentre se un piccolo imprenditore o un lavoratore autonomo si allontanasse per un anno, quando tornerebbe troverebbe un business inesistente. Un lavoratore autonomo possiede un lavoro, un grande imprenditore possiede un sistema. Gli imprenditori guadagnano denaro principalmente dal lavoro di altri e consentono ad altre persone di gestire gran parte delle loro attività. Non a caso, gli imprenditori di successo sono bravi a delegare e a trovare le persone giuste che svolgano il lavoro. Sono spesso esperti di marketing, intuitivi e bravi comunicatori. Il grande imprenditore lotta per la libertà e ottiene il successo finanziario attraverso la creazione di un sistema di business redditizio. Come proprietario di un grande business, puoi avere libertà temporale e finanziaria abbastanza rapidamente. Il quadrante dei grandi imprenditori è dunque uno dei migliori quadranti per diventare ricchi. Tuttavia, come in ogni business, c'è sempre la possibilità di perdere denaro. Per passare dal quadrante del lavoratore autonomo a quello del grande imprenditore è necessario cambiare se stessi e le proprie conoscenze sul sistema, poiché la gestione di un grande business richiede la proprietà o il controllo di un sistema e la capacità di guidare le persone. L'investitore usa il proprio denaro per creare più denaro tramite rischi calcolati. Non deve lavorare poiché il suo denaro lavora per lui e può così raggiungere la libertà finanziaria. Nel quadrante in basso a sinistra troviamo gli investitori, accomunati dalla ricerca della libertà, dalla disponibilità a correre rischi calcolati e dal fatto di non temere la volatilità. Investitori come Warren Buffett comprendono i rischi di un mondo finanziariamente instabile, ma proprio perché li comprendono riescono ad abbracciarli meglio di chiunque altro. La strada verso l'indipendenza finanziaria inizia con questo atteggiamento. Molti esperti ritengono che il quadrante degli investitori sia il posto migliore per creare ricchezza reale, poiché gli investitori usano il proprio denaro per creare più denaro. A differenza del grande imprenditore, infatti, l'investitore ottiene il successo finanziario allocando il denaro dove il denaro ha il più alto rendimento atteso. L'investitore non deve lavorare perché il suo denaro lavora per lui. I veri investitori non parcheggiano i loro soldi, ma muovono sempre il loro denaro, acquisendo sempre nuovi beni. Infatti il quadrante del flusso di cassa non si applica alle persone che fanno investimenti a lungo termine come ad esempio piani pensionistici, si applica invece a coloro che vivono dei propri investimenti nel presente, con investimenti che generano reddito su base continua. Per Kiyosaki l'investimento è la chiave della libertà finanziaria. Le persone che non investono o investono male non sapranno mai cos'è la vera libertà poi che i confini della loro vita saranno sempre definiti dal denaro. Inoltre, queste persone si troveranno a lavorare duramente e a preoccuparsi delle proprie finanze per tutta la vita e a dipendere da altri che si prendano cura di loro, per esempio il governo o la famiglia. Tuttavia, non si può saltare direttamente nel quadrante degli investitori senza avere successo in uno degli altri tre quadranti. Il capitale è essenziale per diventare ricchi e quindi uno dei modi migliori per diventare finanziariamente liberi è ottenere capitale avviando un'attività che ti permetta di guadagnare denaro mentre dormi, creando un sistema che può funzionare anche quando non ci sei. Farcela nel mondo degli affari ti aiuterà non solo ad accumulare capitale da investire, ma anche a diventare un grande investitore. La tua intuizione ti dirà quali modelli di business produrranno rendimenti migliori a lungo termine.